Ciao! Ti sei già iscritto al nostro canale? Allora andiamo a vedere il nuovo volantino. Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore. Ehi, perché non provi la versione online? Basta cliccare sul pallino in alto a destra. Ehi, lo sai che se arriviamo a 20.000 iscritti pianteremo un nuovo albero? Dai! Iscriviti anche tu! Su trovavolantini.it, le offerte della tua città a portata di un click. Vuoi vedere un altro volantino? Scoprelo subito su trovavolantini.it. Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! a tutti!